Sanità, il tuo canto di l'Ode, il tuo giorno è un censo da un'ottia, il tuo humanità vedrà il tuo porto. Grazie a tutti. 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 per tutti. Grazie a 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 tutti. Grazie tommosci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gli disse Gesù, lo hai visto? E colui che parla con te? Ed egli disse, credo, Signore, e si mostrò dinanzi. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo Signore, vengi, eterna gloria. Gloria a te, Cristo Signore, vengi, eterna gloria. Gloria a te, Cristo Signore. Gloria a te, Cristo Signore, vengi, eterna gloria. 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 Gloria a te, Cristo Signore. Gloria a te, Cristo Signore, vengi, eterna gloria. Gloria a te, Cristo signore. Gloria a te, Cristo Signore. a lavarsi, a sciacquarsi ma questa volta è diversa quel cielo si fida della parola di Gesù va e guarisce quant'è connessione nello sguardo nelle parole e nei gesti di Gesù quante cose Gesù insegna con la sua vita lui è il maestro eppure attorno a lui nessuno guarda Gesù per imparare tutti guardano Gesù per criticare in Gesù c'è compassione negli apostoli non c'è compassione per quel cieco tutto quello che sanno fare e dai versetti che non abbiamo ascoltato è discutere di chi è la colpa perché è il cieco è lui che ha peccato o i suoi genitori non c'è compassione negli scepoli non c'è compassione nei farisei scandalizzati che quella guarigione era venuta di sapato per loro non poteva essere qualcosa che viene da Dio e maltrattano quel nuovo voluto come se avesse conto di parlare in colpa quante volte si colpevolizzano i poveri della loro condizione l'abbiamo visto anche con le vittime di il cutro avete seguito noi in televisione colpevoli di aver messo in pericolo la vita dei loro figli ma è una colpa fuggire dai paesi dove c'è la guerra è una colpa ma non c'è compassione ripieno i genitori del povero cielo per poca di veri problemi lo scarica come un problema in un brano ci farsi da sé a giustificarsi insomma torno a Gesù e non c'è compassione nessuno guarda a Gesù per capire come stare vicino al cielo nessuno guarda a Gesù per imparare ad ascoltare il cielo a gioire per lui e con lui perché Gesù ci insegna che il Signore vuole una vita dignitosa per tutti che il Signore vuole che tutti stiano bene ma che succede con la strada dove solo in Gesù c'è compassione succede una cosa che tante volte diventa una tentazione anche per lui il Dio della vita e il Dio della religione non si incontrano i farisei mostrano che si può essere credenti senza essere buoni che si può essere religiosi e non avere compassione che si può parlare come di Dio ma senza Dio ma senza Dio il farisei era come se dicesse gloria di Dio è quando si rispettano le regole Gesù dice che la gloria di Dio è quel luogo che vede perché cari amici cari sorelle e cari fratelli per il Vangelo la compassione viene prima dei riti religiosi una riti religiosi senza la compassione e con una bella scatola ha detto non c'è nulla ma perché i farisei sono così duri sono religiosi ma Gesù non è il loro maestro chi ha la differenza chi ha la differenza sono religiosi sono religiosi ma Gesù non è il loro maestro sono da maestri a se stessi molti sono ciechi per vedere c'è chi è cieco e non vede la luce c'è chi è cieco perché non vede gli altri c'è chi è cieco e che non riesce a vedere un mondo diverso molti rimano così lo riescono a vederlo a sognare un mondo diverso perché non sanno dove nutrire la loro speranza e la loro fiducia perché guardate è facile lasciarsi prendere da un sentire triste e rassegnato è facile ammiguarsi ai mani del tutto soprattutto ai mani degli altri è facile vivere senza compassione quando è che si diventa ciechi quando è che si diventa ciechi dice quando sono a finire qualcosa negli occhi così che si diventa ciechi così ancora che dici si diventa ciechi così scuola che dici quando è che si diventa ciechi quando? quando non facciamo niente giusto siamo ciechi perché non vediamo gli altri non vediamo i sogni degli altri perché siamo ma non li vediamo perché siamo così presi dai nostri bisogni noi diventiamo ciechi per essere dei cari fratelli quando il cuore si chiude all'ascolto chi non ascolta la parola di Dio non vede io sono contenta che qui c'è un gruppo eucatelomenali che hanno la parola di Dio come cuore ed hanno il proprio cammino chi ascolta la parola di Dio vede chi non ascolta non vede i farisei sono religiosi ma non hanno Gesù come maestro allora le cari sono le cari fratelli oggi noi natuiamo molti di voi sono qui inauguriamo la casa canonica del parolo voi sapete che la casa canonica unita alla parrocchia ci ricorda che la vita del prete è strettamente legata alla vita della sua comunità ed è come ha vissuto anche se non sta dopo che è più vicino non ha vissuto il giornale parolo e comunità una sola cosa allora inauguriamo anche questo centro di vita pastorale accanto alla chiesa per ricordarci che il Dio della vita e il Dio della religione sono una cosa sola questo luogo il centro pastorale ci aiuta a vedere a recuperare la lista di questo luogo in cui il centro pastorale che inauguriamo stasera perché prima diceva che è il dono noi riusciamo a vedere i bambini raccolti giovani rienti anziani che si ritrovano famiglie che condividono stranieri raccolti poveri aiutati in questo luogo riusciamo a vedere l'amicizia di Gesù che diventa amicizia di noi in questo luogo noi vogliamo vedere una casa una casa comune dove ritrovarsi in questo luogo si rafforza quel senso di popolo di famiglia di cui abbiamo bisogno per sicurare il nostro individualismo per noi caro Don Gennaro grazie per i tanti sforzi fatti prima se non si è nascosto in mezzo a investire e ho reso un ucchierino e troppo sarà che vedete allora caro Don Gennaro grazie per i tanti scorsi fatti per la tua tenacia per la tua perseveranza per la paternità con la quale da tanti anni sei in questa comunità di Sant'Andrea questo luogo che inauguriamo stasera e sappiamo quanto bisogno c'è in uno spazio in una piazza dove ritrovarsi per sentirsi parte di una famiglia Papa Giovanni XXIII se non lo ricordate il Papa Buono diceva che la parrocchia è la fontana del villaggio questo centro allora è la piazza dove si trova la fontana del villaggio è la piazza dove si trova dove si sta insieme dove si costruiscono giorno dopo giorno dei legami come dei fili del tessuto che più sono stretti e più di me sono forti caro sindaco questo luogo è un dono per la comunità liturgica e grazie anche a te perché tanto è stato voluto anche da voi che tu rappresenti facciamo una piazza e allora ebbiamo concludere cari sorelle cari fratelli siamo in questo tempo di cuoresima non siamo chiamati a convertire lo suo cuore a Gesù Maestro per cambiare modo di vedere la vita e gli altri avete sentito la prima lettura Samuele no dai S perché tra i figli di S deve uscire che di Israele e lui comincia qual è la prima professore che cerca il giovane il figlio più grosso più robusto e più forte e alla fine il Signore gli dirà guarda io ho scelto il più piccolo d'età e anche il più piccolo e gli dice non guardare il suo aspetto ne ha la sua alta statura io l'ho scattato perché non conta quello che vede l'uomo l'uomo vede l'apparenza ma il Signore vede il cuore e noi dobbiamo mettere il cuore in questa struttura il cuore ce la dobbiamo vivere come se fosse casa nostra e allora anche a noi in questo tempo di preparazione alla Pasqua ci viene chiesto di non guardare l'apparenza ma il cuore di non preoccuparci di quello che vedono di noi ma di quello che vede il Signore viviamo in un punto circolo dove quelli che si dicono sapienti non sanno vedere strada di riconcilazione e di pace a quel cielo ormai varito Gesù chiese ma tu credi nel Figlio dell'uomo Gesù cerca amici Gesù cerca amici compagni con i quali cambiare il mondo quel cieco rispose e chi è il Signore perché io credo in Lui chi è il Signore perché io credo in Lui è la domanda della tua esigenza conoscere di più Gesù guardare di più solo lasciarsi toccare più dal suo amore e il Vangelo poterlo più in cieco lui che parla con te allora noi questa sera insieme a quel cieco noi diciamo io credo Signore io credo io credo che questo mondo può essere diverso io credo che questo mondo può essere migliore io credo ma devo anche credere che il cambiamento del mondo inizia da me Paolo scrivendo agli Efesini abbiamo ascoltato dice fratelli un tempo eravate terra ora siete luce del Signore comportatevi perciò come figli della luce ora il frutto della luce consiste in ogni buonà giustizia e verità e allora viviamo la figlia della luce portando opere di importanza di ingiustizia e di verità il Vangelo ci rende il muro e ci rende anche forti perché possiamo mettere in pratica quello che Gesù ci dice ringraziamo il Signore e allora il Signore fa che questo centro pastorale dedicato al Deato Carlo Funtis giovane santo amante dell'Eucaristia ci renda capaci di vivere ogni buonà giustizia e verità dell'amicizia con tutti dell'accoglienza fraterna a partire da chi è più piccolo e bisognoso e così sia e così sia che procede dal padre di Dio e dal padre figlio e dal padre di Caramai e dal padre di Dio di Dio che credo al Chiesa una sana cattolica e così sia ascoltaci oh padre ascoltaci oh padre universale che onora San Giuseppe quale suo speciale padrono sul suo esempio in baria custodile con vede profondo il mistero dell'ingarnazione preghiamo per il santo padre Papa Francesco chiamato ad essere il segno di comunione della Chiesa e il tuo spirito sia sempre su di lui e lo renda instancabile come annunciatore e testimone della tua bontà misericordiosa preghiamo per il nostro Vescovo Giuseppe affinché nel giorno del suono mastico il Signore lo custodisca in salute e gli doni sempre rinnovato vigore per compiere la sua missione pastorale preghiamo signore ti preghiamo per il nostro parroco Don Gennano nel 53 paresiversario del suo sacerdotio affinché tu possi illuminarlo con la tua parola e attraverso la forza dell'equorespia rendelo costanto nella trichiera e nel suo impegno apostolico preghiamo ascoltaci per i devoti e gli amici di tutto il mondo del Beato Carlo Puglis perché sul suo esempio mettendo l'amore di Dio al di sopra di tutto possono sperimentare la bellezza della vita anche attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione sociale preghiamo ascoltaci per i giovani affinché per l'intercessione del Beato Carlo Puglis sappiano vivere da originali e non come fotocopie ed abbiano il coraggio di fare scelte impugnative al servizio della Chiesa e della società preghiamo ascoltaci per le nostre famiglie affinché possano vivere nell'unità nella pace e nell'amore testimoniando ogni giorno con coraggio la gioia di vivere per Cristo preghiamo ascoltaci a Ciove a Ciove a Ciove e fa che confidiamo sempre in Te solda rama su solda roccia su cui poggia la nostra vita per Cristo nostro Signore amén 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 noi. a tutti. 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 tutti. ci. a tutti. 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 ma. noi. dobbiamo vivere. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. tutti. a tutti. perché a tutti. a tutti. 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 . la cucina come ambiente perché è il luogo dove si raccoglie la famiglia e il Signore questo vuole che la famiglia sia riunita e che la famiglia si ritrovi però in questo luogo deve essere un po' come il salotto di casa nostra dove accorgo, dove sono ancora gli auguri del San Giuseppe e quindi insomma io lo sogno così questo luogo un luogo bello dove si cresce come comunità perché o si cresce come comunità o non si cresce perché se uno cresce per conto suo la comunità cresce insieme in questo senso è molto importante anche la presenza del Sindaco perché è un po' come una piazza dove ci si ritrova poi adesso lui ci sta preparando una piazza da 6 mila anni di quadrata auguriamo per la sua eccellenza il Vescono e il nostro Vescono avrà anche a benedire la cappella del Cimileno la nuova cappella del Cimileno perché abbiamo parlato da volta scorsa se 6 mila anni di quadrata e tu puoi incontrare qualcuno e devi stare a mezz'ora ci vuole una pila no ma anche perché noi l'abbiamo fatta per comodità dei nostri panni un mare del Cimileno è un caldo che era proprio intorno a questa piazza però qualche panchina se ci stanno le panchine se ci stanno e soprattutto non solo le panchine non ce l'abbiamo un po' d'umbre l'architetto nel città sta alla vostra scolesta perché qua gli architetti quando ti sei allostato l'architetto ecco ecco sì l'architetto c'è la tendenza delle architetture la tendenza delle architetture urbane è quella di creare quelle grandi piazze tu se vuoi un po' dopo e ti devi mettere in fazzoletta incredibile ma ci si beve no no non è capace davanti alla parrocchia di Eccola c'erano dei giardinetti bellissimi scoppavano la piazza è diventata è diventato un bellissimo campo di ballone per i bambini la cosa mi faceva molto piacere che pure i bambini non diventero lo spazio però vedi un po' d'ombra sennò proprio mi si ferma poi capite non ce li abbiamo più quindi ci serve un po' di protezione della persona naturale bene ma adesso ho fatto gli schizzi sono molto contento penso che siamo tutti molto contenti è nostro non è di qualcuno possiamo dire questo è nostro ognuno di noi lo deve dire lo deve sentire dentro di sé il centro che abbiamo avuto è anche mio è anche mio perché lo dovete sentire come una cosa vostra perché è stata pensata per voi per tutti quindi che nessuno si sente strano va bene quindi è mio è nostro cioè abbiamo una comunità di Durgenta se viene qualcuno di Amorosi però va da letta e soprattutto lui è di Amorosi se è attento non lo dire sennò tra un po' metteranno il passaporto per le due queste sono le sue di Amorosi quindi ognuno di quelli deve sentire è mio è anche mio è anche nostro quindi ci porto i miei anziani ci porto i miei nipoti ci porto i miei figli ci vado con mia moglie ci vado con va bene ok d'accordo bene prima di lasciarvi con un momento di copiarità il trio alle nostre spalle ci ammieterà ancora una dolce gloria ecco e poi andiamo a mangiare dopo tutte queste ghiacce andiamo a mangiare e poi andiamo a mangiare grazie a te Grazie a tutti 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 Grazie a tutti